Grazie a te, con una barca da scrivere, con te l'aperto, e un invito adottare sulla morte, ho visto bene, sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di stretto, passerà anche questa stazione, senza far male, passerà questa croce al sorriere, come passerà l'uomo, ma dov'è, dov'è il tuo cuore, ma dov'è, è finito il tuo cuore, e ora si è, sulle tue cose, che ormai è il tuo cuore, dov'è il tempo, un signore di strada, e un bambino di corno, ma se ti svegli, e il tuo cuore, mi dà la mano, cos'è il tuo cuore, se sono lontano, perché domani sarà giorno lungo, senza parole, perché domani sarà giorno lungo, senza parole, ma dov'è, dov'è il tuo cuore, ma dov'è, è finito il tuo cuore, a tutti, senza parole, Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Piero di Garatti. No, vabbè. Ah, io. Ho detto che ci sono. Poi devo dire una cosa, non lo riesco da accordare.